Allora, eccoci qua, siamo nei giardini bellissimi che sono ridosso del Teatro Brancaccio di Roma. Sembra di stare, boh, non lo so, in un posto selvaggio, nella wild Roma selvatica, sembra di stare in pineta. Invece non siamo in un teatro che sta per riaprire le porte in questo nuovo ricomincio, in questo inizio di vita, grazie soprattutto ai vaccini e a tante tutele del pubblico. Dico questo perché sono particolarmente emozionato di questo nuovo inizio, anche se quest'estate ci siamo mossi, insomma, con limitazioni a mille persone, adesso ci sarà ancora per poco limitazione al 50% e poi speriamo che venga approvato tutto e quindi aumentare all'80% della capienza. Io sono particolarmente emozionato quest'oggi perché quel 4 marzo di un anno e mezzo fa io chiudevo lo spettacolo, quindi chiudevamo i battenti per causa di forza maggiore con decreti governativi e quindi ho smesso di recitare, mi sono recitato addosso per un anno e mezzo, invece adesso c'è la possibilità di ricominciare. E quindi invito tutti quanti i possessori di biglietti, quindi già acquistati, ma anche nuovi, perché c'è possibilità ancora di acquistarli, qualora vogliate passare un paio di ore in allegria, di acquistare oppure di ritrovare nei cassetti in biglietti e di ricorlocarli, quindi ritelefonare a vari siti che poi sono sicuramente a vostra portata di mano, attraverso internet è molto facile reperirli e quindi passare insieme queste due ore e tornare a vivere come una volta, quando si stava meglio, quando si stava peggio, quindi grazie di tutto e ci si vede fra poco, un'ora sola vi vorrei, ciao!